un caro saluto dal teatro lirico di Cagliari dove stiamo provando per il terzo concerto il terzo appuntamento di inverno in musica 2021 con l'orchestra del teatro lirico un programma con la sinfonia dei giocattoli di Angerer, Leopold Mozart, Joseph Heidl non si sa una bellissima sinfonia del periodo classico, Britain the young person's guide to the orchestra e Pierino il lupo con la voce recitante di Massimiliano Medda dei pezzi meravigliosi che spiegano l'orchestra al pubblico la illustrano nelle varie sezioni e forse in questo periodo può essere un sostituto del rapporto diretto pubblico orchestra. Buon divertimento vi aspettiamo sabato 30 gennaio su Videodina e in live streaming alle ore 21.